Il tesoro più prezioso. Il ladro Fernando cammina svelto su una strada polverosa della Giudea. Din 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 tintinnano le monete d'oro e i gioielli rubati nel sacco che porta in spalla. Un rumore delizioso per le orecchie di quel furbacchione che di ricchezze non ha mai abbastanza. Al crocevia dei 420, Fernando si dirige verso l'illaggio di Betlemme. Ma non appena mette piede sul sentiero si ferma stupefatto. Il sacco è diventato di colpo pesante, molto pesante, troppo pesante. Perbacco, che fatica a portare questo sacco, geme Fernando camminando a schiena china. Sembra ci sia dentro un branco di elefanti. Irritato, lo lascia cadere ai piedi di un ulivo. In quel momento sente una vocina sopra di lui. È tuo? È tuo? Ciò che è troppo pesante non ti appartiene. Fernando alza gli occhi e vede una piccola colomba appollaiata su un ramo. Di che si impiccia quell'uccello sfacciato? Decide di ignorarlo e tenta di sollevare il sacco. Ma per quanto tiri, sbuffi e imprechi, il sacco non si muove di un centimetro. È tuo? È tuo? Ciò che è troppo pesante non ti appartiene, ripete la piccola colomba. Il ladro è infuriato. Non vuole abbandonare le sue ricchezze. Vedendo un mendicante avvicinarsi sulla strada, ha un'idea. Se alleggerisco un po' il sacco, sarò in grado di trasportarlo e godermi il resto. Sceglie i gioielli più pesanti e li dà al mendicante senza neanche guardarlo. Poi riprova a mettersi il sacco sulla spalla. Niente da fare, non si è alleggerito nemmeno un po'. Fernando capisce che non potrà tenere nulla. Ma allora che fare di queste, di tutte quelle ricchezze? Sarà anche un ladro, ma in fondo ha un cuore buono. Decide di darle ai poveri, che come il mendicante passeranno lungo la strada. Che almeno la sua sfortuna sia utile a qualcuno. All'inizio la cosa gli costa molta fatica. Rubare tesori è facile per un ladro esperto come me, esclama. Ma regalarli, per tutte le casse forti, è molto più complicato. La colomba si posa sulla sua spalla e lo incoraggia. Con il passare delle ore, Fernando dona con maggiore facilità ed entusiasmo. È commosso dalle persone che incontra. Il sorriso di una povera vedova, la gioia di un cieco, la gratitudine di un gruppo di pastori gli riscalda il cuore. Ben presto il sacco è vuoto. Non sa cosa gli porterà il domani, ma non gli importa. Si sente davvero felice, come non gli accadeva da tanto tempo. La piccola colomba lo saluta e vola via con queste parole misteriose. Arrivederci, caro Fernando. Non ti pentirai del tuo sacrificio. Il tesoro che ti aspetta Betlemme è molto più prezioso di tutte le tue ricchezze. Un tesoro in un villaggio così piccolo. Fernando non è sicuro di aver capito bene. Che strano tipo, mormora. E si rimette in cammino con il cuore leggero.